Ed eccomi qua, allora, buon pomeriggio, buonasera, buonasera a tutti, come di consueto, Angelo Grande, vado in live streaming sul mio profilo di Facebook, quest'oggi che è l'8 di giugno del 2024 e sono in questo momento le 18.58, siamo alle 19.00 e diciamo in questo sabato che ho trascorso rilassandomi, pensando un attimino alla mia vita, alle esperienze passate, a quello che sto vivendo in questo momento, la nuova location della Toscana dove lavoro come, ripeto, portiere notturno, che dir si voglia, receptionist notturno in una struttura alberghiera, iniziata ormai da un mese, l'11 maggio ho intrapreso questa nuova avventura nell'alberghiero e proseguo portando avanti nel mio tempo libero alcune ricerche, alcuni studi, alcuni hobby e ovviamente per andare a soddisfare la curiosità di chi si fosse posto la domanda dormo durante il giorno perché di notte io lavoro. Quindi parte della giornata la devo passare a dormire necessariamente perché devo ripristinare, reintegrare forze d'energie psicofisiche, tanto perché il paesino è piccolo, le voci circolano, ma questo lo vediamo passeggiare soltanto mezza volta alla sera, chi è? È un portiere notturno di una struttura alberghiera, anche abbastanza conosciuta qui, che riposa durante il giorno perché non ha le batterie di Terminator, quindi devo in un certo senso, ecco, anche detto questo, come introduzione a questo mio bel video che sarà credo piuttosto lunghetto perché ho diverse ore ancora prima di iniziare il mio turno, che ripeto, sei giorni su sette, sei notti su sette, inizia alle undici, poi un minuto prima, quarto d'ora prima, ecco, un pochino prima mi ci presento io sul lavoro per essere sicuro che non sia venuta giù la struttura, ecco, nel senso che non sia capitato niente di strano che possa poi compromettere l'ordinario svolgimento delle mie funzioni notturne, manzioni, ecco, allora, accennavo il mio precedente posto, quello di stamane, ad alcune, beh, ad alcuni interessanti argomenti che potrebbero essere spunto di ricerca e approfondimento per chi vuole, per chi come me è considerato essere una sorta di nerd, il nerd è la persona un po' che sa un po' di cose, un po' strano, the widow della situazione, la persona che oltre a lavorare serenamente, quando ovviamente i fattori contingenti lo permettano, serenamente dico, si dedica a studiare altre cose, cose che magari in determinati contesti sociali o in una determinata nazione non vengono prese in considerazione, ma io li prendo in considerazione e me li studio. Poi ci saranno tantissime persone in Italia o in Europa che parlano italiano, in questo caso, che comprendono le mie parole e se le vanno ad approfondire per conto loro. Poi mi adopererò a fare anche un video in inglese per spiegare queste cose che credo risultino essere abbastanza interessanti. Il mio video che sia lungo, io purtroppo non posso fare video frammentati, ho un provider che mi offre 230 giga al mese, pertanto vado. avevo accennato all'Aurora Project, ovvero il progetto Aurora. Allora, esistono un paio di sfaccettature per quanto riguarda questo Aurora Project che ha sviluppato dibattiti nel tempo, polemiche talvolta, controversie nell'ambito della lecita etica attuazione di un determinato progetto. Di che cosa sto parlando? Di una sorta di rieducazione nel sociale attraverso l'intervento della pubblica istruzione è il ministro della sanità, però ovviamente non così come lo si vede oggi. Il progetto Aurora è una cosa vecchia. Andava il progetto Aurora a selezionare, questa è una cosa che poi ho avuto modo di leggere e c'è chi ne sa molto più di me, soprattutto chi è poi coinvolto, andava a selezionare potenziali... ecco, l'esperimento in sé per sé è quello di selezionare in una classe di persone, almeno così ritenute, con dei deficit dell'apprendimento, del comportamento, queste cose qui, sui quali improntare delle tecniche di stimolazione educativa, non neuronale con trattamenti invasivi, ma con delle tecniche psicologiche per rieducare, per riformattare la personalità e renderlo dall'ultimo della classe il primo. È una tecnica, è un esperimento lasciato a sé stesso tanto tempo fa. Poi c'è chi si è trovato con le mani in pasta e ha dovuto in un certo senso portarlo avanti fino a quando poi pensi, non so, abbia trovato pace da qualche parte. Dico, vabbè, dico, l'uso invece indiscriminato è, io ho segnato qui in inglese unlawful, cioè illegale, irregolare, dell'Aurora Project qual è? Quello che molto spesso si verifica, o comunque potrebbe verificarsi, o c'era il sospetto che si verificasse da qualche parte. Allora, come lo spiego così in maniera molto semplice per farla comprendere a tutti, in modo che anche le persone profane possano iniziare un attimo a dire, aspetta, ma tu mi vuoi vedere che succede? Davvero? Sono dubbi, perché poi alla fine, io lo ripeto, sono una sorta di influencer e non ho mai posto limiti a nessuno che chi ne sa più di me, di andare ad approfondire e magari studiarla meglio la cosa. Allora, nella fattispecie, quando questo tipo di progetto Aurora, o Aurora, o diciamo dinamica di approccio Aurora, viene utilizzato in maniera unlawful, illegale, che succede? Si prendono delle persone, dei soggetti, che all'occorrenza si fa apparire come persone con deficit, ecco, di proposito tu mi fai apparire una persona come mezzo ritardato, una persona che ha dei disturbi del comportamento, alterazioni dello spettro autistico, sindrome di down, ritardi mentali vari, senza alcun fondamento, perché c'è dietro il gioco di professionisti conniventi. Va, lo si mette lì in sospeso. E intorno a questo personaggio in sospeso, che è ignaro di tutto, tipo un qualsiasi personaggio, potrei essere anche io, no? Ignaro di tutto, the man in the box. E intorno a questo personaggio gli si piazzano tre, quattro, cinque, sei, dieci, tra professionisti e insegnanti, ad esempio la maestra di scuola media, la maestra di scuola elementare, la professoressa di scuola media, che hanno voglia di ribalta o comunque voglia di costruirsi in una sorta di successo. Che cosa si fa? Si fa partire questo soggetto in una sorta di analisi temporale, lunga, con un zero o dieci di preparazione. E man mano, ovviamente la persona è sempre ignara della cosa, io non so niente, gli altri, questa persona non sa niente. The man in the box. E di tanto in tanto questi professionisti, queste maestre che cercano fama e risultati illeciti naturalmente, non puliti, stilano delle relazioni, dei rapporti, dicono dopo un anno questa persona mi ha portato dei risultati perché io gli ho fatto raggiungere questi risultati, quando in verità la persona ignara di tutto questo gioco, posizionata in questa scatola magica, the man in the box, continuava a fare il proprio lavoro e magari a studiarsi le proprie cose per conto suo, frutto del proprio intelletto già lì di suo. E nel tempo la cosa continua. E questo è quanto praticamente. Poi il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, tre anni e sei mesi, si sviluppano dinamiche dove a me è capitato, ad esempio dicevo, di essere stato in Inghilterra per lungo tempo e di aver lavorato senza mai ovviamente frequentare l'università, sono ritornato in Italia e andai ad un CAF. Vado ad un CAF e dico mi fa per piacere la procedura per avere l'ISEE, vado a controllarmi questo documento fiscale l'ISEE e mi risulta un DAD, DAD, che sarebbe una didattica a distanza. Vuoi vedere che tra le tante cose, i trucchetti vari che si adoperano per fregare il governo, ci sono anche queste cose qui relative a questa sorta di progetto Aurora dove una persona la si fa figurare come un mezzo idiota, magari senza istruzione, e intorno a questo povero personaggio che viene messo in una scatola magica, ignaro di tutto, gli si ci gioca. Professionisti, maestrucole che tentano di avere diciamo un proprio svezzamento in età ormai già adulta e trapassata. Poi io... questi sono accenni di ricerca che io faccio perché mi diverto tanto, perché laddove poi dovesse spuntare fuori qualche cosa, ovviamente per indagini portate avanti da inquirenti, guardia di finanza, polizia, carabinieri, Interpol... non sono certo io che mi vada a controllare i database e determinate connessioni sul territorio italiano, europeo, internazionale, non sono io. E' quello che fa, non si succede. E allora, questo l'abbiamo detto. Allora, volevo poi accennare a qualcosa così molto molto veloce perché chi ha avuto modo di visitare il mio canale YouTube c'è una piccola playlist, ovvero una sezione, una section, dedicata alla gestione aziendale dove avevo fatto anche una sorta di tutorial per quel gestionale alberghiero Zucchetti, Ericsoft Suite numero 5. E mi dedicavo un attimino, ecco, non sono mai stato un general manager, però ecco, mi sono studiato alcuni parametri aziendali, alcune dinamiche aziendali dei procedimenti interni di azienda e li ho resi pubblici secondo il mio punto di vista, con i miei modi un po' così simpatici. E tra i tanti video che ho messo su YouTube, che però al momento sono privati, ovvero non pubblici, visibili a tutta l'umanità, in qualsiasi punto del globo, ce n'era uno in particolare che parlava dello scapegoating, ovvero del ruolo di scapegoat, the scapegoat role, che è una cosa che ho coniato io l'anno scorso a cortina. In che cosa consta questo scapegoat role? Sto facendo lo schermetto e non vado a leggere il globo, porto degli appunti perché il discorso è lungo, non è che potrebbe essere un robo-gobbo, un terminator, è difficile il giorno. Che cosa succede? In determinati ambiti aziendali, quando molto spesso si ha a che fare con la clientela, con fornitori, rappresentanti, persone che possono presentare, possono presentare rimostranze, si crea questa figura vera e propria, che talvolta è creata apposta, ovviamente questa è un'idea che ho messo io in giro, però ci sono aziende che lo fanno, ovvero si crea lo scapegoat, ovvero un personaggio assunto come personaggio neanche tanto ben identificato nell'azienda, una persona supporto alle attività produttive e lo si tiene là fermo, pagandogli uno stipendio, facendogli fare le cosette così, accessore o subordinate all'attività primaria dell'azienda, e poi di tanto in tanto, quando si verifica, perché si lavora sulla psiche degli ospiti, sulla psiche dei clienti, quando si verifica un momento di insoddisfazione da parte di un cliente, nel servizio offerto dell'azienda, c'è un reclamo, l'azienda lavora sulla psiche dell'ospite del cliente, perché cosa vuole il cliente in quel momento, quando è incazzato nero, vuole la soddisfazione che una persona venga punita, richiamata, si prende questo personaggio, lo scapegoat o la scapegoat, dipende, o maschio o femmina può essere, dipende dalle situazioni, e dinanzi al cliente, all'ospite, al rappresentante, al funzionario, chiunque si fa la ramanzina, magari anche in maniera molto colorita, in modo tale che già un 70% risultato della fiamma interna della persona arrabbiata, si placa, si abbassa, il cliente è insoddisfatto di un servizio offerto dall'azienda, vede che la sua richiesta di trovare un colpevole e dargli tutte le colpe, di punirlo, è stata soddisfatta e si calma, poi ovviamente l'azienda continuerà a dire, guarda sì comunque noi però, comunque questo rimborso non te lo possiamo dare, quindi accontentati, ti diamo un complimentary drink, salute, e tutto finisce lì, cioè c'è la persona che si prende la ramanzina, che paga per un gioco aziendale, vasto gioco aziendale che succede in tante realtà del mondo, e la persona comunque poi se ne va, come si suol dire in una determinata realtà italiana, con una mano davanti e con una mano sul di dietro. Questo è quanto, questa è una cosa che ho studiato io perché esiste, poi ci sono le persone intelligenti che in un'azienda le utilizzano e me le rubano poi in un certo modo le idee, un momento eh, e le utilizzano a vantaggio delle aziende, perché poi io, ripeto, non è che perché sia qui mi stia facendo riferimento alla situazione attuale, io queste cose qui di gestione aziendale ho iniziato a farle l'anno scorso e cortina, ma ancora prima, poi alcuni video dovranno essere, li metterò pubblici, prima o poi. Per quanto invece concerne il mio aiuto che voglio dare un pochettino alla collettività, ma anche dal punto di vista di supporto potenziali colleghi, passati, futuri, presenti, amici nel mondo, ora parlo italiano, mi farò capire da una buona parte di popolazione che parla italiano, poi parlerò anche in inglese, esiste una app che non è che altro una piccola applicazione gestibile da pc o comunque anche da quegli smartphone che ultimamente si fanno apprezzare per avere delle caratteristiche molto avanzate, i smartphone che sembrano computerini portatili praticamente, si chiama Whatsapp Desktop. Che cosa succede con questo Whatsapp Desktop? Da remoto, ipotizziamo, io ho il mio Whatsapp sul mio cellulare, c'è questa persona, terza persona che io neanche conosco, con il Whatsapp Desktop che magari dal computer, utilizzando non la mia scheda SIM ma i miei contatti della mia rubrica di Whatsapp, invia messaggi come se fossi io e poi li cancella. Tanto è vero che talvolta può capitare che si appaiono dei messaggi inviati da Tizio sul cellulare di Caio. Caio legge il messaggio, Tizio mi ha mandato il messaggio e si presenta a questo posto e non c'è Tizio, c'è un'altra persona. Questo succede e talvolta lo si può sviluppare, questo tipo di sistema, anche inviando semplicemente un messaggio, poi queste sono cose che io non faccio, ma probabilmente mi sono trovato vittima. Indago comunque perché in Italia e in alcuni paesi indagare sulla propria vita senza infrangere la legge è legale. Posso andare a fare domande sulla mia vita? Se facendo queste domande un'istituzione, un corpo di polizia o un'autorità di Stato scopre una magagna fatta alle mie spalle, il problema è loro, non mio. Dico perché io sto cercando di portare avanti degli studi e delle ricerche e lo faccio nel mio tempo libero dando dritte molto interessanti alle persone che magari potrebbero trovarsi coinvolte in una situazione del genere. Quindi dicevo talvolta è meglio utilizzare gli sms piuttosto che whatsapp, perché mentre whatsapp può essere utilizzato con whatsapp desktop, l'sms no. Questo qui è una notifica. mi piaceva, diciamo, riportare alla memoria di tanti italiani e persone straniere che vivono sul territorio italiano, volevo riportare alla memoria dell'episodio della crisi di Sigonella. Qui siamo in Italia, poi chi volesse approfondire cosa sia, chi volesse andare a capire che cos'è la crisi di Sigonella deve fare qualche passo indietro a qualche annetto fa e studiarsi questa cosa che, ecco, laddove ci fosse qualche belletà di qualche persona che per pura coincidenza è stata così sfortunata che un tappo di sughero è andata di traverso. Qui siamo in Italia e per gli italiani e per gli stranieri ci sono le autorità che vagliano, che monitorano, che intervengono a tutela di potenziali vittime. Chiaro? Spero di sì. Stai un po' criptica come cosa. E per quanto riguarda invece il bonus track che voglio inserire in questo mio video, che agli occhi di tanti e alle orecchie di tanti risulterà inutile, superfluo, inconcludente, ma ce ne saranno occhi e orecchie che presteranno molta attenzione. Voglio vedere il bonus track di questa sera, qual è? Le intercettazioni ambientali e le registrazioni audio-video. Allora, le intercettazioni ambientali, in senso stretto, quelle dove in un determinato ambiente di lavoro privato, che sia privato quasi impossibile, ma di lavoro, vengono messe microfoni, queste cose qui, videocamere, telecamere, eccetera, deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria. Non lo si può fare così in maniera arbitraria. Per quanto riguarda le intercettazioni ambientali, ovvero io piazzo un microfono in un punto e me ne vado e da lontano ti ascolto. Questa è l'intercettazione ambientale, ovvero la microspia e via dicendo. C'è bisogno dell'autorità giudiziaria che fa questo, la procura della Repubblica che dà il via a un magistrato. Cosa differente invece è quando per legittima sospizione, quando per tutelare la propria sicurezza e incolumità, anche il potenziale rischio di una diffamazione in un ambiente sociale, culturale o professionale, la registrazione audio, purché io sia presente nella conversazione. Non è altro che un'estensione della memoria di chi la pratica la registrazione. Io pratico una registrazione telefonica, purché io sia presente nella conversazione telefonica, perché è considerata dalla legge italiana un'estensione della mia memoria, come una micro sd che si mette nel cervello per ricordare quanti più particolari, dettagliati della telefonata o della conversazione è possibile. Detto questo, lo dico, ogni persona che si possa sentire minacciata, indispettita, frustrata, intimidita, sottoposta a una sorta di pressione e volesse attuare una contromossa oppure una contromisura a fine di tutelarsi dove un ambiente magari risulti ostile, con pochi amici, nessun amico, si si trova da solo, può tranquillamente registrare una conversazione perché l'uso che se ne fa poi di questa conversazione sia lecito, ovvero andare dai carabinieri, lecito, presentarla ad un giudice o ad un avvocato, lecito, metterla in rete, no. Questo è il bisogno di imparare a studiare le norme del diritto italiano che sia civile, penale, per saperle puoi mettere in pratica determinate cose. Laddove una persona si senta addirittura minacciato o comunque con la possibilità di essere aggredito fisicamente, quindi una violenza non solo psicologica o verbale ma fisica, si può attuare anche la registrazione video e presentarla ai carabinieri, all'autorità giudiziaria, al tribunale, all'avvocato, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, il vostro angelo grande, non sono poi tanto grande ma sono comunque un angelo, poi dipende, bianco o nero, l'angelo è sempre un angelo, che ha dedicato questo tempo della sua vita a far capire ai personaggi che pensano lusco che c'è sempre la legge, la giustizia e tante volte c'è il karma. What goes around comes around. Riflettevo su qualche cosa, credo, credo proprio di aver capito come è giunta quella firma falsa, ovvero copia e incolla, su un contratto in Inghilterra, guarda caso tramite dei piccoli canaletti di collegamenti vari tra Calabria, Campania, Salivano, su... adesso mi trovo in un'altra regione, sto studiando anche qui, ma se non per farmi dare un risarcimento per quella cosa che mi capitò a York, serve comunque far capire che io le indagini le faccio bene, potenziali inquirenti, e che ci sono persone che hanno fatto qualche intrallazzo alle mie spalle. Occhio al video dove parlo in quattro lingue e mezzo, tre lingue e mezzo lì, dove parlo che stavo lì con la barba, da quel posto dove mi rifugiai, che veni autorizzato a starci durante la pandemia, lì che stavo con le grucce, che avevo recuperato l'infortunio alla colonna vertebrale, parlo proprio di questo, senza SSP che sarebbe stato Tori Sicpei, che magari avrebbe dovuto essere preso in considerazione in maniera diversa, senza compensation, ecco. ma Angelo è ancora vivo a distanza di cinque anni, restato quattro anni e va bene, poi ci sono così tanti, ecco, casi nella vita dove gli haters continueranno a fare haters e i supporters dove oltre a continuare a fare supporters inizieranno a capire che le cose che dico, ma sono molto sabato serie, auguro a tutti un felice sabato sera, sono in questo momento le 19.30, io ho ancora qualche oretta di tempo per prepararmi a questa nuova puntata, ieri sera ho fatto la battuta, ecco, The Night Attendant, stavo così, facevo finta di fare la locandina di un film, lo voglio dire, io non ho nessuna liberatoria da farmi firmare, se io decidessi un giorno di fare l'attore o il cantante, rispetto ai contratti che ho sottoscritto con determinate aziende, ma non c'è nessuno che può giostrare, modificare, alterare, manipolare o gestire le mie performance, se io un giorno dovessi incontrare per dire Quentin Tarantino, ci parlerei di mio, non ho persone che gestiscono queste cose sotto forma di cura di interessi, mai fatto, mai esistite queste persone, diffidate da persone che magari si presentano alla vostra porta e dicono, eh, quello lì canta per noi, poi, no, io non canto per nessuno, io sono un coverist e canto per me stesso, chiaro? Poi, se di storie strane, io ne ho sentite tante, meglio farle capire queste cose, a quante più persone è possibile, soprattutto le autorità. Allora, visitate il mio canale YouTube quotidianamente e costantemente in aggiornamento con vari upload e ripristino da privati a pubblici di vecchi video che un po' alla volta faranno capire alla gente che io determinate cose le ho dette due anni fa, un anno e mezzo fa, tre anni fa, per dire. Questo qui è il mio follow button su Facebook. Nella descrizione di questo canale, ovvero YouTube Channel, ci sono tutti i link dei miei social network e... che dire, che dire, tutti, proprio un po' alla volta, i video che sono adesso su questo profilo di Facebook, li andrò a trasferire su YouTube un pochino alla volta. Detto questo, non credo di aver dimenticato qualcosa, e seppure fosse, lo andrò ad aggiungere nel mio prossimo video. Essendo in Toscana, mi ritorna alla mente quella persona che io, diciamo, emulavo così, goliardicamente, nei miei video a cortino, quando quella persona che io ho l'impressione che tu mi stia guardando, eccetera, 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 è una persona che ha fatto indagini particolari, una persona che si formò a Quantico, una persona competentissima, dico, io ho l'impressione che tu mi stia guardando, eh. Dovete fare molta attenzione, molta attenzione. Al mio prossimo video, sono Angelo Grande, e... buon weekend!